Inter Milan 5 a 1 abbiamo vinto ancora noi questo derby e come dopo ogni gara le pagelle dei tifosi siamo in diretta subito dopo il fischio finale insieme alla community di Passione Inter che ci sta seguendo in diretta siamo stati più di tremila in live per tutta la serata diamo i voti a tutti i giocatori dell'Inter scesi in campo stasera e a mister Simone Inzaghi in un derby dominato in lungo in largo lo facciamo con il nostro tier maker come sempre in cinque fasce andiamo ad inserire tutti i nostri giocatori MVP per il migliore in campo ne dobbiamo eleggere tassativamente solo uno top per quello è andato particolarmente bene con voti molto alti ok per quelli sulla sufficienza rimandato se qualcuno non ha inciso del tutto flop per chi è andato male in questa serata diciamo che in un cinque a uno del derby io tendenzialmente non metterei nessuno nei diciamo nei flop però questa è una mia opinione vedremo la chat di Passione Inter che cosa dirà partiamo allora in ordine di ruolo e quindi partiamo da Jan Sommer tra i pali che subisce il suo primo gol di questo campionato incolpevole secondo me sul gol direi che Jan Sommer lo possiamo mettere negli ok è stato utile nel gioco coi piedi mai impegnato di fatto la dice lunga secondo me su questo derby andiamo poi a Matteo Darmian su Darmian ho letto vari commenti Darmian ha fatto una partita d'ordine perché poi alla fine Leao stasera non si è visto moltissimo però in occasione del gol secondo me qualche responsabilità un pochino in ritardo ce l'ha facendosi scappare Leao alle spalle per fortuna il gol poi non influisce sul risultato solita prestazione comunque solida diciamo non la miglior partita di Darmian secondo me oggi lo metto leggermente un gradino sotto Sommer vedo qualche rimandato diciamo che in un derby vinto così forse rimandato eccetera però prestazione non pienissima un ok basso lì una piccola disattenzione che però può può capitare dalla chat comunque gli diamo l'ok perché al di là di quello non è che abbia sbagliato molto e comunque davanti c'era una delle corsie sinistre più difficili da fronteggiare in assoluto al centro della difesa a Cerbi per me a Cerbi è una scelta che può starci non mi ha dato quelle sensazioni di solidità e di assolutamente diciamo e di assoluto leader della difesa che io ho visto fare sempre è stata una buona partita comunque si prende la sufficienza per me però devo dire che c'è stata qualche sbavatura e l'ho visto un attimino in ritardo ma credo sia abbastanza normale nel momento in cui si trattava di fatto del debutto e al debutto in questo campionato subito uno stress test quindi ok anche lui ci aspettiamo di più perché sappiamo che può dare di più bastoni dei tre di difesa forse è quello che che va un pochino più alto anche seppure bastoni non è che abbia fatto un partitone clamoroso oggi gli sono stati affidati più dei compiti di copertura considerando che l'inter ha rinunciato di fatto a gestire il controllo della palla e quello di solito è il suo punto forte eh principale e quindi bastoni oggi ha comunque controllato bene Pulisic ehm dei tre per me è quello che prende il voto un pochino più alto e vedo che la chat è d'accordo quindi lo mettiamo anche sopra al portiere Jan Sommer eh per quanto riguarda il centrocampo Denzel Dunfris ragazzi Denzel Dunfris oggi il duello con Teo Hernandez è stato eh molto più combattuto degli ultimi secondo me e in alcuni momenti ha sofferto Teo in altri ha avuto la meglio Teo Hernandez che poi spesso ha messo in difficoltà la nostra difesa venendo centrale però la prestazione di Dunfris mi è sembrata positiva mi è sembrata buona eh sulla falsa riga del buon Dunfris che abbiamo visto in questo in questo avvio di stagione diciamo sia in nazionale che in Maya Inter ha creato un'occasione da gol eh ha fatto l'assist di fatto e una buona percentuale diciamo di palloni giocati direi che l'ok è abbastanza pieno eh qualcuno mette addirittura top eh dai dai ci può stare ci può stare il top in questo per Dunfris che lo stesso dicevamo aveva di fronte un avversario molto scomodo quindi Denzel Dunfris continua questo avvio di stagione eh decisamente importante eh i centrali Barella ragazzi Barella farà un pochino discutere perché oggi poi è stato sostituito e sono curioso di sapere la vostra non la miglior partita di sicuro da parte di Barella eh i centrocampisti meglio diciamo Barella per me si prende una sufficienza normale una sufficienza è eh è un giocatore che per me verrà criticato perché so come viene come vengono valutate le partite per me rimane però un elemento chiave nel convertire le azioni da difensive a offensive comunque nel ribaltare il campo e nell'avere il controllo del centrocampo per me rimane un giocatore che con o senza l'Inter comunque cambia e quindi poi alla lunga è calato giusto sostituirlo per far entrare frattesi e non sostituire Mkhitaryan però diciamo ci sono state partite più apparecenti apparecenti Barella si merita comunque l'ok a livello di voto e vedo che la chat eh è d'accordo eh c'era Noglu c'era Noglu oggi palloni giocati molti meno del solito anzi ehm se non sbaglio nella gara contro il Cagliari ne avrà toccati cento venticinque oggi ne avrà toccati sui quarantacinque mi sembra quindi un terzo eh ma tanto lavoro di interdizione poi segna anche il gol sembrava quello un pochino più in ombra ma poi alla lunga eh la sua sostanza secondo me si è fatta sentire ehm io lo metto tra l'ok e il top eh visto anche il gol il gol che segna ragazzi è un gol comunque importante sul calcio di rigore che chiude di fatto la partita e lo possiamo mettere magari appena sotto il gradino del del top forse però però se lo merita dai il top secondo me c'è la Noglu sto leggendo la chat e per me come peso ci sta come peso ci sta perché comunque eh io aggiungo questa considerazione che facevo durante il commento della gara eh il centrocampo del Milan per me è più forte dell'anno scorso e quindi secondo me dobbiamo tarare la nostra prestazione anche su Milan più forte l'anno scorso e quindi dobbiamo dare ancora più meriti ai nostri per aver vinto così questa partita e e c'era Noglu lì davanti la difesa ragazzi aveva dei compiti più difficili soprattutto con Reinders che era sempre presente lì ad insidiare e e e il top comunque se lo merita pur non essendo estrato ehm diciamo così in vista e così come Michi Italian ragazzi dai c'è poco dubbio Michi Italian giocatore spaziale eh dicevo dategli una cattedra per favore perché questo è un professore di calcio eh doppietta va vicino anche ad un altro gol dal momento quando eravamo sull'uno a zero serve l'assist eh Michi Italian MVP assoluto voto ai limiti del dieci probabilmente un nove potremmo dargli numericamente perché è una partita impressionante quella di Michi Italian è fatto per questi palcoscenici e quindi non chiediamoci poi perché Inzaghi continua a preferirlo e continua a schierarlo dal primo minuto ehm Di Marco Di Marco per me ha fatto una buona partita molto buona ehm il gol di Michi Italian nasce anche da da lui sostanzialmente dal suo tiro sporco sempre presente e diciamo si ferma per i crampi sapevamo che avrebbe che comunque non aveva i 90 minuti a questi ritmi perché spende tantissimo e ha fatto il massimo top assoluto secondo me anche eh Federico Federico Di Marco la chat vedo che eh siete abbastanza d'accordo anche qui arriviamo agli attaccanti e attaccanti sono curioso ragazzi io vado dritto sui attaccanti Turam top assolutamente senza alcun tipo di dubbio oggi la partita la stappa e la conduce sui binari della vittoria Turam subito dopo Michi Italian perché contro contro ciao non gli fa capire nulla praticamente dicevo il modo per mettere più in difficoltà la retroguardia del Milan a cercare di stanarli in campo aperto e con Turam li abbiamo aggrediti li abbiamo attaccati ha fatto tante cose giuste tante cose buone il gol è un capolavoro assoluto al primo derby è un ragazzo che ci farà molto divertire è un ragazzo che io ho sempre difeso e che ad ogni partita ha sempre aggiunto qualcos'altro e oggi ha fatto un'altra prestazione da top assoluto e il commento che faceva Simone in diretta mi trova d'accordo che per questa inter di Inzaghi la coppia Turam Lautaro rischia di diventare più funzionale di Lukaku Lautaro addirittura e quindi ci sarà da divertirsi ecco se si continua così quindi Turam assolutamente un gradino sotto Mkhitaryan solo perché ha giocato un meno perché Mkhitaryan hanno fatti due e Lautaro Martinez ragazzi io gli do il top assolutamente do il top anche a Lautaro Martinez perché Lautaro oggi non ha segnato avrebbe meritato il gol ma ha fatto una prestazione dietro le quinte di sacrificio da leader di questa squadra impressionante secondo me credo avrà una percentuale di passaggi riusciti e di giocate positive impressionanti se immagino ha recuperato un numero di palloni da centrocampista in pratica in questa gara e ha creato occasioni è stato presente è entrato nei gol per me top oggi Lautaro Martinez assolutamente se poi si giudicano gli attaccanti solo dai gol e dagli assi solo dai gol io non sono d'accordo anche quando si procura il rigore fa una grande giocata quindi quindi lo mettiamo lì e andiamo sui giocatori subentrati su quelli entrati dalla panchina per me ragazzi i giocatori entrati dalla panchina pur avendo giocato poco meritano meritano tutti dei voti importanti perché per me una delle chiavi della vittoria di questa partita e chi ha visto la nostra analisi pre gara mi darà ragione ve l'avevo già detto sono stati i cambi e io credo che l'Inter abbia vinto la partita anche se non soprattutto grazie ai cambi perché in un momento di grande difficoltà con le sostituzioni l'Inter ha dato la scossa e l'abbiamo portato a casa per cui frattesi il migliore in assoluto dei subentrati si prende il top perché è entrato con una garra da derby clamorosa e segna un gran gol quindi bravissimo frattesi se lo merita ma io direi anche carlos augusto ragazzi anche carlos augusto per me è entrato da top comunque perché ha inciso fin da subito subito un tiro immediatamente e io ragazzi questa cosa a livello psicologico la considero molto tu stai soffrendo oltre a fare i cambi quello che entra calcia subito in porta al all'avversario comunque lanci un segnale e quella cosa lì qualche dubbio nella squadra avversaria lo insinua quindi quel tiro per me è importante così come un recupero palla ripartito in contropiede molto bene anche carlos augusto che dunque va nei top meritato mettiamolo qui e arnautovic è entrato con voglia ha inciso meno magari sulla partita però la voglia gliela premio di sicuro è un ok pieno anche arnautovic dai poi avrà modo di incidere ancora di più all'interno della gara soprattutto in area di rigore devrai gli darei un ok dai senza senza cedere troppo visto che è entrato anche dopo nella chat vedo che siamo tutti d'accordo e e poi mi manca aslani aslani ha fatto una bellissima sventagliata a cambiare campo dove abbiamo trovato poi un'altra azione offensiva ok anche aslani dai andiamo veloci con questi che sono entrati nel finale a gestire la partita simone in zaghi simone in zaghi ragazzi forse possiamo permetterci un doppio mvp io metto anche anche in zaghi al pari di mkhitaryan perché l'allenatore comunque ha sempre un voto a parte e in zaghi per me merita le mvp perché perché a questo milan diverso nuovo con tante novità più forte rispetto all'anno scorso secondo me ha applicato delle contromisure che sono state ancora più efficaci rispetto all'anno scorso quindi questo è il primo punto di partenza seconda cosa a gara in corso ha saputo leggere perfettamente i momenti e si è preso la decisione forte come dicevo poco fa anche di togliere barella quindi verrà sottovalutata questa cosa per me non è banale questo è un inter in mano a simone in zaghi questo è un inter di simone in zaghi e quindi mvp assoluto questo in questa vittoria c'è tanto c'è tanto del mister per me quindi lo mettiamo mvp chiudiamo qui allora le nostre pagelle fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con i nostri voti oppure no lasciate le vostre valutazioni vi ricordo che se volete partecipare anche voi alle pagelle dei tifosi potete farlo dopo ogni partita in diretta qui sul nostro canale partecipando alla live dando anche i vostri voti vi aspettiamo ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace mi raccomando